amici tv youtube buona giornata io è la prima volta ho creato un canale su youtube nel 2015 ma non ci sono mai entrato oggi l'ho rispolverato e lo voglio mettere a vivo mi chiamo Pippa Mandia attualmente trasmetto su Speedlife e spero che vi venite a trovare vi vedete in gambe così vi conoscerete nel canale youtube Pippo Latana del Lupo anzi no scusate Pippo lupo solitario il nome del canale youtube su Speedlife sono Latana del Lupo e vi potete trovare la quasi tutto il giorno fino a tanta notte sto finendo questo video anche per farmi conoscere vi dico che non metterò video di scherzi o video di incidenti di queste cose se cavo durante il viaggio io metterò solo video dei miei viaggi già qualcuno l'ho inserito sono stato a febbraio sono stato nel ciclo volare attico e spero di ritornarci appena finisce questo lockdown per adesso vi posso mostrare video di qua della zona dove fino a dove posso arrivare io mi trovo in Sicilia nella provincia di Catania che devo dire buona giornata a tutte e spero che mi seguite intanto ora stacco quando mi posso fermare se deve essere uno spiazzo qua perfetto amici vi saluto e a presto e arrivederci sul canale youtube o sulla gamba di Speedlife buona giornata